Incontro trilaterale tra primo ministro Giorgia Meloni, il francese Emmanuel Macron e la presidente Commissione Europea Ursula von der Leyen, a margine del vertice Med 9 a Malta, per discutere dell'attuazione del piano in 10 punti presentato da della Commissione Europea per consentire all'UE di affrontare la sfida migrazione. Macron all'ANSA. Con Meloni e UE hanno trovato un approccio comune l'incontro con Giorgia Meloni è andato bene. Come sempre, siamo riusciti a fare dei passi avanti. Con la Commissione Europea abbiamo trovato un approccio comune che proporremo ai colleghi per dare una risposta comune a questa che è una situazione tutta europea. Lo ha detto o l'ANSA il presidente francese Emmanuel Macron. Commentando l'esito dell'incontro trilaterale sulla crisi migratoria svoltosi a margine del vertice Med 9 alla Valletta. Con il primo ministro e la presidente della Commissione Europea. Ursula von der Leyen. Schla in tutti i paesi dell'UE dovrebbero fare la loro parte sui migranti tutti i paesi europei. Devono fare la loro parte nell'accogliere i migranti. Perché non possiamo sigillare il mare. E bisogna superare l'ipocrisia del regolamento dublino. Che blocca centinaia di migliaia richiedenti asilo nel paese in cui hanno messo piede. Così è lì Schla in o l'incontro con i sindaci progressisti. Per Schla in l'ospitalità diffusa deve essere modello di riferimento e un percorso che produce. Inclusione sociale. Senza affollare le persone nei grandi centri e voglio ringraziare anche il presidente della Toscana. Eugenio Gianni per questa battaglia che ha fatto. A tutto nostro sostegno. Meloni. Soluzioni strutturali sui migranti. Altrimenti saremo tutti travolti chi pensa che il problema dei migranti possa essere confinato entro i confini di una nazione europea si sbaglia. Senza risposte strutturali. Prima saranno travolti i paesi di primo arrivo. Ma poi tutti saranno travolti da questo problema. Così il premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni finali dei leader al termine del vertice med 9 a. Malta. Il piano d'azione presentato da Ursula von der Leyen a Lampedusa è un ottimo quadro di partenza. È fondamentale renderlo concreto e operativo e attuare questi principi ha aggiunto. Pensiamo che se l'UE si è data la transizione verde. Digitale e la difesa come obiettivi strategici. Questi obiettivi devono essere riconosciuti e tutelati. Non possiamo tornare alle regole del precedente patto di stabilità. Sarebbe molto difficile per i nostri economie da affrontare, ma dobbiamo anche saper immaginare. Nuove regole che sostengano le grandi scelte strategiche che ci siamo dati. Meloni. La sinistra spera in un governo tecnico. Governiamo la sinistra continua a fare la lista dei ministri del governo tecnico che nel frattempo governiamo ha detto Meloni interpellato sull'endamento dello spread. Non vedo questo problema. Vedo questa speranza da parte dei soliti noti. Mi fa sorridere. Voglio rassicurarvi il governo sta bene. La situazione.